Buongiorno a tutti ragazzi, io sono mamma Claudia, benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavaleri Family! Il video di oggi è qualcosa di super super natalizio. Eh no ragazzi, non stiamo facendo l'albero perché l'albero l'abbiamo già fatto! E se non lo avete ancora fatto, andatevi a guardare il video precedente perché è successo una catastrofe! Io ho picchiato la testa, sono svenuta, sono diventata una bambina! Insomma ragazzi, ne sono successe davvero di ogni! Quindi andatevi a vedere il video se non lo avete fatto! Ma oggi faremo qualcosa che resterà per sempre impresso come ricordo! Il ricordo della Cavaleri Family, anzi il ricordo del primo Natale di Baby Andrea! Sì ragazzi, beh allora, non avete ancora capito? E va bene, vi do tre opzioni e scrivete giù nei commenti secondo voi qual è quella esatta. Allora oggi faremo dei biscotti a tema natalizio, oppure numero due, uno shooting fotografico a tema natalizio, oppure numero tre, andremo ad addobbare tutto il nostro giardino di Natale! Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere secondo voi se è l'opzione la numero uno, la numero due o la numero tre. Non vi voglio svelare troppo perché sto aspettando papà salvo che torna dal lavoro! E poi dobbiamo andare a prendere le bimbe a scuola! Sì, oggi sarà una giornata veramente, veramente pazzesca! Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale Cavaleri Family se anche a voi piacciono le sorprese e soprattutto guardatevi il video fino alla fine! Perché vi posso giurare che oggi vedrete delle robe fantastiche! Mi raccomando, per vedere tutti i contenuti inediti che non trovate su YouTube, dovete seguirci sui nostri social! Ma come quali? Instagram e TikTok! Perché vedete tutti gli altri contenuti che non trovate ovviamente qui sul nostro canale YouTube! Mi sembra che papà salvo sia arrivato! Io ho preparato tutto l'occorrente che serve per oggi e non ci resta altro che andare a prendere le bimbe a scuola! Andiamo ragazzi, venite con noi! Eccoci, eccoci in macchina! Stiamo andando a prendere le bimbe a scuola! Ma ancora non vi posso svelare dove stiamo andando, giusto papi? Emozionati, siamo emozionati perché questa è la prima esperienza di baby Andrea! Beh, non è proprio la prima esperienza papi, perché un'esperienza l'aveva già fatta, molto simile, appena nato! E allora diciamo che è la prima esperienza natalizia nostra di tutta la Cavaleri Family! È vero, è vero, è vero che ci lascerà un ricordo bellissimo di questo Natale! Ed eccoci qua ragazzi, siamo all'ingresso della scuola di Aurora e Noemi che stanno per uscire, ancora non sanno neanche dove stiamo per andare, però sono gasatissime! Aspettiamole, carichiamo i bagagli e andiamo! Ed ecco qui sta per arrivare Aurora! Ancora non sai dove stiamo andando eh! Quindi... Sei felice eh? Sì! Niente, Aurora e Noemi prelevati da scuola prima! Veloce, 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 veloce dai! Mettiamo su i bagagli e si parte! Non si parte! Sì, si parte, si parte! Ok, carichiamo tutto mamma, forza, si parte, via, 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 via! Avventura, nuova avventura, sempre la nuova avventura dei Cavaleri Family ragazzi! Pazzesco! Cioè mamma, ma quante novità! Ma c'è una dietro l'altro! Una tra tutte ragazzi, tra pochi giorni saremo a Napoli! Eh sì, l'8 dicembre, mi raccomando, non dimenticatevelo! Venite a trovarci al Christmas Village, ci sarà uno spettacolo pazzesco! Il Christmas Village ragazzi si trova alla mostra d'oltremare! Per avere biglietti basta che scrivete giù nei commenti come averli e noi vi rispondiamo subito! Ok? Mamma, siamo in ritardo! Possiamo partire? Subito papi, subito, ci aspettano! Andiamo! Siamo appena arrivati, siamo scesi dalla macchina e le bimbe, papà Salvo e baby Andrea, si sono fiondati subito qua dentro perché siamo arrivati dalla nostra fantastica fotografa Cristina Passerini! Ciao ragazzi! Ed ecco lei che ci segue ormai da... ...dalla gravidanza, eh! Da un po' di mesi! Ha fatto con noi un sacco di eventi! Quindi non potevamo non fare con lei lo shooting di Natale! Ma come di Natale? Sembrava che dobbiamo fare qua lo shooting californiano! Ma che stai dicendo? Noi non vediamo l'ora perché è il primo Natale di baby Andrea! E quindi ci siamo affidati alla nostra fotografa e amica ormai, ormai sì! di vedervi, di avervi tutti qua! Grazie, grazie mille Cristina! Ragazzi ovviamente se volete fare il vostro shooting fotografico di Natale, oppure anche in gravidanza, venite qua dalla Cristina Passerini che si trova a Paullo, provincia di Milano! Però noi siamo curiosissimi di entrare dentro quella stanza lì, perché è la stanza dove si farà lo shooting appunto di Natale! Noi l'abbiamo vista in altre versioni, ma la versione natalizia non l'abbiamo mai vista! Quindi siamo curiosissimi! Bimbe! Siete pronte? Siete pronte? Siete pronte? Siete pronte? Siete pronte? Togliti le scarpe, preparazione, siamo tutti emozionati, tutti gasati, tu che cosa fai? Stai scalpitando? Allora tre, due, uno, guarda baby Andrea pure! Non sta capendo niente! Via! Vediamo! Sì! Oh! No vabbè! No! Ma è bellissimo! È stupendo! No vabbè! No vabbè! No vabbè! Mamma mia che sfondo ragazzi! Allora io direi che sembriamo proprio la casa di Babbo Natale! Sì una super accoglienza natalizia, cioè ma fai vedere nel dettaglio, guarda quel divano bellissimo! Con tutti i cuscini rossi! Allora guardate, guardate qui nel dettaglio e poi voi giù nei commenti scrivete quello che vi piace più di tutti come decoro! Io già mi immagino me lì con la panza di fuori, bellissimo! Ecco è là, già le piccole che stanno scombinando tutto! Non saltare! Stupendo ragazzi, che dire? Bello, bello! Sembra buon cusso cara Cristina! Brava! Complimenti, complimenti! Che dire? Cambiamoci e... Cominciamo! Lo shooting! Cominciamo! E ovviamente ragazzi il primo a cominciare lo shooting! Chi poteva essere se non bevi Andrea? Eccolo lì! Già subito che si fa fotografare dalla Cristina! Pazzesco, guardate ragazzi! Bellissimo! Già preso, sembra un pesce aggrappato lì nelle luci! Andrea? Ehi, ehi! Non spaccare tutto! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Emi tu sei pronta amore? Ma siete bellissime! Fatevi vedere! Ragazzi guardate aurora e il suo splendore! Ecco anche Noemi! Eccola qua! Bellissime! Con uno sfondo natalizio sempre peccabile, impeccabile! Mamma Claudia si sta preparando ma anche io devo andare dietro le quinde a prepararmi subito ragazzi perché tocca adesso a tutta la Cavaleri Family! Eh? Vado io? La prendi te! No dai! Allora facciamo una cosa però attenta eh! Andrea! Quella! Baby Boss! Ti piace eh! Siete bellissimi! E mentre papà salvo è di là con baby Andrea e le bambine io nel frattempo sto scegliendo un pochettino qua i fiocchi da mettere in testa perché non appena le bimbe hanno visto questa scatola piena di fiocchi sono impazzite letteralmente e quindi non so assolutamente quale fiocco far indossare ad Aurora e Noemi loro sono indecise ovviamente tra un sacco di colori quindi mi aiuterete voi mi date qualche consiglio ora ve li faccio vedere nel dettaglio guardate qua ci sono un'infinità di cerchietti nastri e fasce per capelli guardate questa tutta dorata che è bellissima oppure guardate qua questi fiori fantastici wow e guardate qui questa è una fascia che si può mettere in testa e direi che è a super tema natalizio perché c'è questo fiore color oro secondo voi quale fascia dovremmo mettere o quale colore dovremmo indossare considerate che è natale dovremmo stare su un bianco e quindi toni molto delicati oppure mettere un rosa sparato o magari non lo so un azzurro scrivete giù nei commenti e fateci sapere il vostro colore preferito del natale do una sbirciata a quello che stanno combinando di là entriamo ma super bravi non si muove questo piccolo top model quasi quasi io me ne vado che dite non voglio disturbarli sono troppo belli sono troppo bravi guardate ragazzi adesso Andrea è tra le braccia della sua sorella maggiore è passato da Noemi ad Aurora secondo voi inizierà a piangere oppure no? eccoli Aurora e Noemi sono veramente delle modelle ma vieni vado a cambiare tocca a noi adesso ragazzi voi scrivete giù nei commenti secondo voi chi sarà il più bello di noi? io vabbè ragazzi Aurora e Noemi sono strepitose mettete un voto da 1 a 100.000 per le Cavaleri Sisters perché sono bellissime ok ragazzi nel frattempo io ho messo già il pantalone adesso metterò il maglioncino ma guardate baby Andrea ha cambiato il suo outfit ah no guardatelo in versione bianco natale mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia dov'è Andrea dov'è eccolo baby Andrea e nel frattempo ragazzi io mi sono cambiato ecco dalla testa ai piedi scalzo e vi faccio vedere la mamma al mio 3 2 1 eccola eccola mimetizzata insieme a tutti questi tappeti bianchi sì papi scusami guarda più natale di così più montagna allora tu hai un maglioncino lungo un maglioncino a vestitino eccola e tu ti chiedevate mamma Claudia eccola qua molto natale scusate no vabbè ragazzi ma che vediamo sfilate un attimo e guardate Emi che c'ha anche il poncio anche lei con la maxi maglia sopra ma che bello vediamo come noi ma è stupenda Emi sfila un attimo vieni verso di me vediamo Emi no vabbè tutta timida tutta timida manca solo un camino papi eh sì ma dietro di te c'è un bambino ma che sta facendo non lo so sta condivendo oggi è carico è carico ok ragazzi adesso stacchiamo perché cominciamo il nostro servizio fotografico per vederlo basta andare sul nostro instagram cavaleri trattino basso family e ok ragazzi come avete visto siamo tornati in versione Cavaleri Family borghese non più natale ovviamente tutte le foto e tutto il resto dello shooting lo vedrete sui nostri social instagram e tiktok e mi raccomando correte a seguire anche Cristina Passerini la nostra super mega fotografa che ogni volta immortala i nostri fantastici momenti in famiglia ma non è finita qui perché ragazzi noi stiamo per creare la nostra nuova foto del logo Cavaleri Family si sempre grazie a Cristina quindi mi raccomando iscrivetevi al canale Cavaleri Family e cliccate sulla campanella per non perdervi tutte le novità e scoprire anche la nostra nuova foto profilo scusate ragazzi ma ora dobbiamo ritornare a fare le foto non vi posso spoilerare altro devo scappare devo scappare abbiamo quasi finito ma ragazzi se anche questo nuovo video vi è piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family cliccate sulla campanella ricordatevi anche di seguirci sul canale di Cavaleri Sisters di Aurora e Noemi che già lo stava chiedendo qua che si sta spazzolando lei sempre che si spazzola con questi capelli lunghissimi ma ricordate noi siamo i Cavaleri Family mamma solletico a tutti a me no qua scivoliamo no solletico ad Aurora ad Aurora solletico prima che sbatti prendi a lei prendi a lei no ma cosa fai prima che sbatti no 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 bambina vieni qua no 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 ho preso io va bene ok ok ragazzi al prossimo video ciao a tutti aspetta aspetta dove vai clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family ci vediamo